Un piano di investimenti su 59 ospedali in Sicilia e nelle isole minori. L'assessore regionale della salute Ruggero Razza ha firmato il decreto che prevede interventi per 224 milioni di euro destinati a opere di potenziamento tecnologico, infrastrutturale e agli adeguamenti a norma di strutture già esistenti che ne avevano fatto richiesta negli anni scorsi. Un piano inserito in un accordo di programma sottoscritto con il Ministero della Sanità, il decreto finanzia progetti immediatamente cantierabili, esclusi al momento quelli di non immediata realizzazione. Il 95% degli investimenti previsti sarà a carico dello Stato, la parte restante sarà cofinanziata dalla regione siciliana. Per la città metropolitana di Messina è previsto un contributo da 13 milioni e 500 mila euro, le somme più ingenti però destinate alle realtà di Palermo, Catania e Trapani. Per le isole minori 500 mila euro saranno destinate alla ristrutturazione del presidio ospedaliero di Pantelleria, mentre parte dei 5 milioni richiesti per acquista attrezzatura nel Messinese andranno all'ospedale di Lipari. Un intervento complessivo che, secondo il Presidente della Regione, nello Musumeci, rientra nel miliardo di euro che il Governo intende attivare per dare una boccata di ossigeno alle piccole e medie imprese. L'altro obiettivo è quello di ammodernare strutture sanitarie, rimaste fuori legge per tanto tempo. Si interverrà su strutture che allo stato attuale presentano forti criticità. Tra i progetti, 15 riguardano opere di ristrutturazione e messa in sicurezza, 19 l'adeguamento e la messa a norma di strutture, 9 l'acquisto di arredi e attrezzature.